La presentazione del progetto Alternanza Scuola-Lavoro presso l'Istituto Comprensivo Fermi Nervi Cassandro di Barletta. Il Mondo Scuola ha raccolta per comprendere cosa si intenda per tutela del territorio e prevenzione del rischio, inoculare così nelle generazioni del domani concetti di primario rilievo e quanto mai attuali. Un ruolo sempre più importante, quindi quello assunto dall'universo scolastico nella preparazione, oltre i banchi di scuola, dei giovani studenti. Alternanza Scuola-Lavoro è un progetto che noi abbiamo affrontato sin dai corsi anni scolastici, abbiamo ottenuto dei PON, quindi ci sono stati autorizzati e quindi i nostri ragazzi hanno partecipato a stage all'estero, sono stati a Londra, a Bruxelles, in svariate parti e quindi insomma riteniamo che sia il massimo per gli studenti perché comunque effettivamente mettono in pratica ciò che imparano sui banchi di scuola. Un progetto, questo, espressione della collaborazione tra l'Istituto Comprensivo e del Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia, illustrati ai giovani studenti le norme da adottare in situazioni di emergenza, nonché quali compiti e le finalità di chi agisce quotidianamente in un'ottica di tutela del territorio. I ragazzi stanno reagendo in una maniera fantastica e propositiva, per noi diventa anche un'attività sinergica. Il progetto è strutturato non soltanto in un aspetto didattico, però vogliamo dare anche ai ragazzi che sono ormai mediatici anche degli aspetti concreti, quindi parleremo di cartografia, orientamento, uso delle strumentazioni GIS. Alla fine il percorso formativo li abiliterà in quello che è l'operatore di protezione civile, un operatore qualificato e non improvvisato, permettendogli anche allo stesso tempo di utilizzare questo attestato all'interno delle associazioni di volontariato riconosciute dall'Albo regionale di protezione civile per poter diventare e quindi esercitare quello che hanno appreso in maniera concreta e tangibile. Un'occasione propizia quindi presso l'Istituto Comprensivo Fermi Nervi Cassandro a Barletta per sensibilizzare i cittadini del futuro. Vogliamo sensibilizzare i giovani affinché dentro di loro aumenti e cresca sempre di più la cultura della prevenzione e quindi la protezione civile che oggi è un simbolo importante in Italia e nella Puglia deve trasferire, deve avere anche la responsabilità di far crescere dei cittadini più sani, dei cittadini più consapevoli, dei cittadini più preparati, più informati. Quindi iniziare dalla scuola per noi è una sfida importante perché riteniamo che solo attraverso una rivoluzione culturale si può arrivare a raggiungere un modello di sicurezza che parta soprattutto dai cittadini stessi, quindi parta dalla sicurezza dei propri luoghi in cui vivono e quindi avere dei cittadini consapevoli e che siano in grado di intervenire nei momenti di necessità e di rischio per noi è un obiettivo importante.